La tredicesima puntata del Grande Fratello 2023 è stata caratterizzata da colpi di scena che hanno visto protagonisti soprattutto Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Heidi Baci. Quest'ultima ha fatto ritorno nel reality show, ma solo per avere un confronto a distanza con l'attore. Quanto accaduto, però, non avrebbe ricevuto l'approvazione da parte degli autori e di Pier Silvio Berlusconi. Almeno questo è ciò che emerge da alcuni retroscena svelati da Agent Beast, l'esperto dei reality show italiani su X, ex Twitter. La ricostruzione è alquanto spinosa. Va precisato. Inoltre, sarebbe bene prendere tali rivelazioni con le pinze. In quanto per il momento rappresentano solo delle indiscrezioni. Facendo il punto della situazione. Agent Beast in queste ore ha informato i suoi fan del fatto che, durante la diretta della tredicesima puntata, sarebbe arrivata, la chiamata di Pier Silvio Berlusconi. E gli autori avrebbero iniziato, ad allarmarsi. Dopodiché, sarebbero iniziati in diretta i dialoghi con Massimiliano. «Gli autori non sembrano essere per nulla contenti di quanto accaduto. Soprattutto tra i vertici, si legge. Nella serata di ieri. Massimiliano al GF 2023 ha ammesso di avere intenzione di lasciare il gioco prima del previsto. E questa pare non sia la prima volta che l'attore palesi questa sua volontà. I problemi non riguarderebbero solo Varrese. Ben, si valuta l'intervento di Signorini per redarguire i comportamenti nei confronti di Beatrice, si legge. Dunque, pare che gli autori abbiano storto il naso di fronte ai duri commenti riservati all'attrice da parte dei suoi coinquilini. Nel frattempo, Alfonso pare avesse già lasciato lo studio. Dietro le quinte, sarebbe emersa, l'insoddisfazione di Pier Silvio, per come stanno andando avanti i fatti all'interno della casa di Cinecittà.